Stiamo facendo nient'altro che i fattorini della carità, la carità che si manifesta nella generosità delle persone. Io con un volontario al giorno non faccio altro che portare nel reparto di infettivologie, laddove mi chiedono, tutte queste cose. E un po' faccio anche il fattorino di Dio perché dovunque vado porto la sua benedizione. In diversi ogni giorno, quando vanno a fare la spesa, si fermano alla parrocchia di San Giuseppe, proprio dietro l'ospedale di Bustarsizio, per lasciare cibo, cancelleria, caricatori per i cellulari dei ricoverati. E c'è persino chi ha fornito del gelato. Oggi sono appena tornato, insieme al cappellano Don Fabrizio, sono stato nella rianimazione del nostro ospedale dove ci sono i ricoverati. Ho regalato a medici, infermieri e tutte quelle persone che lavorano in quel reparto un po' di buon gelato. E dietro a quel gelato in realtà c'è il cuore non solo di chi ce l'ha regalato, ma il cuore di tante persone che guardano con affetto al nostro ospedale e ai nostri medici.